Tra parentesi, Thomas giustamente sdegnato, perché fatti vedere Thomas, vieni qui un attimo, perché questo bambino è stato dileggiato dall'insensibile Chirico e ha detto che lui non studia e invece Thomas tu studi e hai preso anche dei bei voti, è vero? Ecco, non c'è rimasto male perché Chirico che non ha Dio veramente. E' che qua invece di studiare, la domenica pomeriggio io studiavo quando andavo a scuola, lui invece qua a fare niente, eccolo qua, verrà bocciato, verrà bocciato sicuro. Magari ha studiato ieri, che ne sa. Ha studiato ieri, bravo. Vai Thomas, poi si segna il mio attimo. Giustamente Thomas, nel giorno che lo scudetto era Juve, ricorda quello che è successo. Ecco, ha portato anche le pere. Le quattro pere. Curbo Thomas, perché lui ne ha prese quattro dal Barcelloni in un giorno solo, io almeno scaglionati in due partite. Ma lui arriva lì, nel giorno, e lo scudetto era Juve, ma pensa a te, ma rosicatela. Però per consolare Marcello, Fabio, Thomas, gli ha portato l'unica che può vincere, la Coppa. Esatto, esatto, Thomas è stato certissimo.